L'oroscopo di oggi, è presentato dalle esperte del Centro dei Cartomanti Europei. Chiama, allo 0773 49 36 60. Visita il nostro sito www.cartomantieuropei.com. Ariete. Si prospetta una fase di transizione. La modificazione della situazione attuale potrebbe risultarvi difficile. In amore cercherete nel partner le tenerezze che vi rassicurino. Uno spettacolo vi allieterà. Vi ritroverete a contemplare un evento per caso. Resterete meravigliati da ciò che ne scaturirà e vorrete ripetere l'esperienza. In amore insisterete nella ricerca di chi non sembra più interessato a voi. Gemelli. Avrete voglia di delegare e dovrete resistere all'impulso di far decidere qualcun altro al posto vostro. In amore non avrete alternative se non affidarvi al vostro metodo preferito, cancro. Non esagerate nelle decisioni. Perdonate e comprendete certi comportamenti. Vi aiuterà. In amore risolvete le cose in sospeso. Leone. Tempo delle verità. Una persona sul lavoro diventa sempre più importante e dovrete trovare un modo per tenerla accanto. In amore dovrete dare fiducia. Ne trarrete beneficio. Vergine. Il solito tran tran vi renderà tranquilli. Troverete quella serenità che stavate cercando e questa sensazione di sicurezza, vi predisporrà a provare qualcosa di nuovo. Lasciatevi guidare dall'istinto e potreste vivere un momento emozionante. Bilancia. Piacevoli sorprese in arrivo. Un incontro inaspettato cambierà la vostra giornata e vi regalerà un sorriso e il buon umore. In amore dovrete riconsiderare le vostre convinzioni. Scorpione. Attenzione ai particolari. Ciò che sembra marginale si rivelerà fondamentale per il buon esito del vostro lavoro. In amore un riconoscimento inaspettato dei vostri meriti. Sagittario. Mantenere una promessa potrebbe risultare oneroso, una vittoria è alle porte, ma fate attenzione a non prendere la partita sul personale e il tempo scorrerà a vostro favore. In amore la complicità ritrovata metterà fine ai batti vecchi, capricorno. Dividerete un guadagno di un lavoro svolto in compagnia e non ascolterete il desiderio di tenere tutto, e questa condivisione della somma susciterà gratitudine in chi vi sta accanto. In amore darete peso a parole pronunciate a sproposito. Acquario. Siate qui, alcuni fattori possono propendere verso una scelta diversa. Ragionate bene. Riuscirete a fare a meno della collaborazione di qualcuno nella vostra attività. Ciò creerà tensione. In amore resterete in attesa di un segno positivo. Pesci. Sarete al centro dell'attenzione. In molti vi considereranno un punto di riferimento da cui apprendere. In amore siate spontanei. L'oroscopo è stato offerto dalle esperte del Centro dei Cartomanti Europei. Visita il nostro sito www.cartomanti-europei.com